In titolare ad Angelo Costola, il padre dell'Eli Soccorso Bellunese e la nuova base EMS di Pieve di Cadore. È la proposta che Fabio Rufus Bristot, Matteo Toscani e Diego Tabacchi hanno lanciato attraverso una nuova pagina Facebook. Cosa assolutamente scontata che riteniamo debba essere finalizzata da parte della Regione Veneto e dell'USL, ovvero dedicare la nuova base di Eli Soccorso che sta in questi mesi terminando la sua realizzazione ad Angelo Costola che è stato il promotore del 118 in Italia, che ricordo essere stato tra i primi dopo Bologna e Udine. Colui che ha ideato insieme al Soccorso Alpino ovviamente il servizio di Eli Soccorso, elementi dei servizi salvavita assolutamente decisivi per il nostro territorio e per le nostre comunità. Alle volte le cose scontate però sono le più difficili da raggiungersi e speriamo che anche attraverso questo gruppo Facebook si possa sollecitare l'emotività ma anche la sensibilità di chi dovrebbe poi provvedere a fare questa dedica al primario, al compianto primario. Intanto in questi giorni è stato ufficializzato l'inizio del servizio di Eli Soccorso notturno per il momento svolto dall'elicottero di Treviso. Se ne è parlato per troppi anni, diversamente dalle regioni con termine che ormai da un quinquennio stanno portando avanti metodiche, procedure piuttosto elevate dal punto di vista della sicurezza e assolutamente efficaci per tutte le comunità della montagna. Speriamo che possa veramente decollare il servizio di Eli Soccorso notturno ma mi sia permesso dire anche con una punta d'orgoglio di rappresentanti del territorio in qualità di consigliere comunale con un elicottero che possa partire da Pievei Cadore e non già da Treviso. Io credo che i bellunesi dovrebbero sviluppare un po' più un senso di appartenenza, di comunità e anche di massa critica nel rivendicare che questo servizio salvavita straordinariamente importante per la collettività parta da Belluno ovvero dalla nuova piazzola di Pievei Cadore.